Nel corso della quarta fiera dell'agricoltura a San Michele di Bari, dove il mondo agricolo per tre giornate ha potuto mettere in mostra i suoi prodotti, tanti sono stati gli espositori e tante anche le attività proposte dall'amministrazione comunale di San Michele. Ci troviamo in uno dei corridoi, quindi osserviamo i diversi stand, i diversi espositori. L'assessore, il suo collega un po' più elevato a livello istituzionale della Regione Puglia, ha sottolineato più volte l'attenzione di San Michele nei confronti dell'agricoltura e quindi ha voluto specificare che è tra i pochi comuni che raggiunge determinati obiettivi e soprattutto che visita spesso gli uffici regionali. Infatti è così. Ma l'ha fatto con un complimento per dire che è assillante? Beh, non so se sono assillante. Oddio, a volte sono anche assillante, ma viene fatto proprio per raggiungere quello che è l'obiettivo, l'obiettivo di favorire la possibilità alla nostra comunità, però oggi non possiamo parlare solo di una comunità, ma come abbiamo detto prima e come diciamo in questi giorni, di un'area, di un comprensorio, perché l'agricoltura non è solo San Michele, l'agricoltura è giusto che vada, quando si parla di agricoltura, è giusto che si parli a livello comprensoriale, regionale. Ecco, perché è necessario interloquire con l'ente a noi superiore, che è appunto quella della Regione Puglia, l'assessorato in questo caso all'agricoltura alla Regione Puglia, dove vanno poste tutte le questioni, dove ci sono anche eventuali fondi a cui poter attingere e chi poi per nostro conto deve interloquire anche, perché non dimentichiamo che gli assessori poi partecipano alle conferenze Stato-Regioni a livello ministeriale, dove portano quelle che sono le problematiche dei territori. Sulla nostra sinistra leggiamo Consorzio Vini Gioia del Colle Doc. San Michele fa parte come comprensorio, come territorio del Consorzio Doc Gioia del Colle, ed è una delle istituzioni presenti qui in fiera, perché il Consorzio, pur avendo la denominazione Gioia del Colle, racchiude più di 20 comuni, quindi sapete bene che in questo momento c'è una rivalutazione del vino primitivo, e un accento su questo prodotto, quindi ecco perché la presenza di questa istituzione, come ce ne sono tante altre, lo stesso stand le trova l'Associazione Nazionale Città dell'Oglio, di cui San Michele di Bari è socio, e quindi fa parte di quest'altra associazione. A nostre spalle sventola la bandiera giallo-verde della Coldiretti. In fiera sono presenti, questo è uno stand più che Coldiretti, di un operatore affiliato con l'operatore diretti, che viene dalla Calabria, come potete vedere propone le specialità calabresi, questo ci fa capire che in questa fiera, come dicevo prima, non arrivano solo persone, ditte, enti del nostro territorio, ma l'Italia meridionale è abbastanza rappresentata. Tornando alla Coldiretti, tutte le confederazioni, l'abbiamo visto prima alla riunione che si è tenuta, la presenza dell'assessore Pentassulia, sono presenti qui in fiera. È presente la Coldiretti, è presente la CIA, è presente la Confagricoltura, è presente la Copagri, è presente la Luci, è presente l'Apeo ed è presente l'Ara, l'associazione degli allevatori. Infatti anche la fiera è caratterizzata dalla presenza dell'izotecnia. Ecco, poi ci sono le diverse apparecchiature come la lavapavimenti, insomma, tutto è utile al settore. Sono tutte aziende che spongono prodotti che sono necessari per lo svolgimento dell'attività agricola. Alle nostre spalle si sente il profumo degli agrumi, assessore. Questa è una chicca, per me è la cosa più bella della fiera, senza nulla toglie, forse perché io sono anche vicino un po' per l'attività che svolgo. Noi come Comune di San Michele siamo soci della Fondazione ITS Agroalimentare Puglia, che in collaborazione con il Centro di Cerca Agricoltura Basile Caramia, in questo stand noi vediamo nei tre giorni una mostra pomologica permanente. Qui sono presenti, come lei può leggere, noi parliamo sempre di biodiversità, sono presenti tutti i frutti che sono autunnali, perché noi ormai siamo in autunno. Quindi sono presenti campioni, ecco perché si chiama pomologica, perché rappresenta i frutti, è una mostra, ci sono qui i campioni della frutta che noi vediamo, abbiamo nelle campagne in questo momento. È un tributio di colori, perché l'autunno ha dei colori belli, quindi perché ne so, gli agrumi, piuttosto che le noci, quindi mandorle, castagne, il melograno, le diverse varietà, il melocotogno, la nespola, la nespola invernale, il sorbo, l'azeruolo, il carrubo, il melocotogno, il perocotogno, le diverse varietà di uva, peri, sono tutti prodotti che sono presenti adesso in autunno. Questa mostra pomologica nei tre giorni, nel pomeriggio, viene spiegata dettagliatamente dal dottor Venerito, responsabile del Centro di Cerca e Basile Caramia di Locoron. Forme, colori, contenuti, profumi, una varietà stupenda, seppur lei, insomma abbiamo specificato che ci troviamo in autunno, ma la temperatura di oggi è più primaverile, tendente all'essere. È una temperatura anche che forse l'agricoltura fa anche male, perché insomma fa molto caldo, però allo stesso tempo permette pure questa giornata meravigliosa, permette pure il flusso di gente nei nostri territori, nella nostra fiera. Le carote di Polignano. Loro sono venuti dalla prima ora, hanno creduto, questa azienda ha creduto alla nostra fiera della prima ora e hanno questa tipicità, appunto la carota di Polignano, che loro poi abbiamo le diverse anche confetture, le diverse sottaceti, quindi sono dei ragazzi di Polignano che espongono qui in fiera, un'azienda abbastanza importante. Possiamo chiedere all'operatrice che, insomma, vedo che è a nostra disposizione. A lei piace questa fiera, quindi magari chiedetele perché viene a questa fiera. L'assessore ha fatto una domanda specifica, come mai partecipa a questa fiera? Da due anni a questa parte siamo molto legati a San Michele, perché fanno tantissime manifestazioni e questa forse è quella che più ci rappresenta, quindi dell'agricoltura, essendo una piccola azienda agricola, ci troviamo bene, c'è un flusso di clientela molto, molto, molto importante e tutta l'amministrazione comunale ci dà una grande mano, comunque, nella vendita dei nostri prodotti. Che significa questo? Allora, la nostra azienda si chiama Messagnazze, che è il soprannome di famiglia, quindi Maestro Ignazio. Ah, ok, Maestro Ignazio, il soprannome di famiglia. Poi tendono a scomparire i soprannomi, invece in questo caso un giovane, dei giovani che lo valorizzano, invece recuperano questi... Valorizzare il territorio significa anche ricordare e legarsi a quelle che sono le proprie radici, che nessuno può dimenticare le proprie radici, così come si tende oggi a riscoprire il dialetto, che viene definito come una lingua, ecco perché questo ci lega alle nostre tradizioni e quindi porta alla promozione dei nostri territori, dell'agricoltura soprattutto. Complimenti, noi proseguiamo. E qui, ecco le caldarroste, i peperoncini. Poi abbiamo anche la presenza della Proloco, di San Michele, di Vino Bianco, che ha esposto. E poi c'è un'associazione, l'angoletto dei pittori, che espongono dei quadri, sono associazioni di San Michele, perché quando poi girano le famiglie nella fiera ci sono anche dei momenti culturali, e come potete vedere ci sono anche altre associazioni, anche a carattere sociale, che mettono in evidenza il proprio servizio che fanno sulla comunità. Tra le associazioni presenti in fiera, anche la Fratres, sempre impegnata alla sensibilizzazione della cultura del dono. In questa fiera a San Michele di Bari, presso lo stand dei donatori di sangue Fratres, alle spalle leggiamo Gruppo di San Michele, ma abbiamo il piacere di intervistare il Presidente nazionale. Allora, professore, la cultura del dono è un qualche cosa che fa parte del DNA del popolo italiano, lo dimostra quotidianamente con l'accoglienza, con le donazioni. C'è stato un periodo particolare, quello del Covid, che ha portato la gente a rinchiudersi in se stessa. Ma le patologie sono andate avanti, la necessità delle donazioni e quindi del sangue è sempre stata alta. L'associazione che monitoraggio ha fatto, che visione ha della situazione post-Covid e cosa vogliamo dire ai nostri telespettatori affinché possano sempre più avvicinarsi al Fratres e comunque tutto il mondo delle associazioni che danno la possibilità di donare il sangue che è molto utile, specialmente in caso di incidenti gravi. Tutti gli ospedali, specialmente nel periodo estivo, hanno la necessità di sangue. La donazione del sangue in Italia, ma in particolare in Puglia, parlando, vivendo noi in Puglia, da anni, a partire dagli anni 50, ma soprattutto a partire dagli anni 70 in poi, e per quello che riguarda la Fratres dagli anni 80 in poi, ha avuto sempre un trend in crescita, sempre positivo. Ci sono stati sempre nuovi donatori che si sono avvicinati al dono, alle nostre associazioni, alla Fratres e anche alle altre associazioni. E quindi si è andato man mano crescendo come donazioni e raggiungendo quello che noi chiamiamo in termine tecnico, anche con un termine poco felice, autosufficienza. La Puglia, per esempio, ha avuto dei momenti in estate, dei momenti di difficoltà, ma poi dopo ha avuto anche dei momenti di surplus, diciamo così, qualche volta addirittura ha dato lei delle masie alle altre regioni. Comunque, insomma, le cose sono andate sempre in crescendo. Quello che invece è stato un momento di difficoltà è derivato dal Covid, ma anche qui in un primo momento c'era stato un disorientamento, non sapere che cosa fare. Ma poi la risposta è stata positiva. Anche se le donazioni sono diminuite nel 2020, per esempio, si è riuscito comunque a far fronte alle necessità. Naturalmente sono stati rinviati alcuni interventi, però nessuno è andato in crisi, non c'è stata nessuna difficoltà. Poi è ripreso, sia nel 2021 che nel 2022. Quindi c'è una tendenza... Quest'anno, nei primi sei mesi, sono stati un po' difficoltosi e pare che qualche cosa stia migliorando nel secondo semestre. Il problema del Covid è uno dei problemi legati alla donazione. L'altro è invece legato al non sufficiente rinnovo dei donatori, dei donatori anziani che, o per motivi di saluto, o per motivi di età, non donano più. Non sono, diciamo così, rimpiazzati, sostituiti con la stessa frequenza, con lo stesso numero dai giovani. È una tendenza che oramai è quasi un decennio, che va non in maniera verticale, ma tendenzialmente in questa direzione. Quindi lo sforzo deve essere quello di trovare parole nuove per far sì che i giovani, io uso questa espressione, si innamorino di questa missione, così come ci siamo innamorati noi 30 anni fa, 40 anni fa, a seconda di quando abbiamo iniziato. Ecco, bisogna vedere, di trovare le formule. La scuola, ma non solo nella scuola, perché la scuola non può essere caricata di tutte le cose, ma all'interno della famiglia, delle istituzioni, della comunicazione, fare in modo che la richiesta di sangue diventi non un qualche cosa legata alla necessità, al dolore, alla sofferenza, ma quasi un dovere civico, un qualche cosa che deve entrare appunto nel nostro D&A, come tutte le azioni quotidiane. Se noi riuscissimo ad avere qualche donazione in più dei donatori già attivi e qualche altro donatore, un altro mezzo milione per dire complessivamente su 60 milioni o quanto siamo in Italia, avremmo risolto tutti i problemi dal punto di vista del sangue. Un'altra cosa di cui bisogna parlare è del plasma. Molto spesso noi ci fermiamo al discorso del sangue, ma è importantissimo anche il discorso della donazione del plasma, promuovere la donazione del plasma. Perché il clodal plasma, quindi con i farmaci plasma derivati, sono farmaci salva vita e di cui abbiamo un estremo bisogno. Non solo, ma l'approvvigionamento che noi abbiamo deriva spesso dall'estero. Quindi bisogna acquistarlo, in poche parole. E se queste cose dovessero venire meno dalle altre regioni, come il Covid ha dimostrato, noi verremo a trovarci in difficoltà. Ecco, quindi, essendo il plasma un prodotto considerato strategico, dovrebbe essere non solo da parte delle associazioni, perché le associazioni da parte loro la fanno. possono sempre migliorare, ma noi come Fratres alla fine dell'anno faremo sicuramente più donazioni dell'anno scorso. Quindi bisogna mettere insieme le sinergie, bisogna collaborare, far sì che le istituzioni, le associazioni, i tecnici, gli specialisti si mettano insieme in qualche cosa di concertato che elimini le incongruenze e le difficoltà che inevitabilmente ci sono, mancanza di personale, strutture, cose di questo genere, e che appunto, mettendo insieme le istituzioni, le associazioni, con le loro proposte, si riesca a comunicare meglio e far sì che i giovani, ma non solo i giovani, perché non è che noi dobbiamo puntare solo al diciottene, diciamo così, magari cominciassimo a donare a 30 anni e poi dopo da 30 a 70 avremo tutta una vita davanti a noi. L'importante è che riprenda, diciamo così, quella affezione a questo tipo di gesto, a questo tipo di solidarietà che ci permetta di poter proseguire, perché indietro la medicina non tornerà, di sangue ci sarà bisogno sempre e o diventa un elemento costitutivo, in un certo senso nostro, oppure dovremo correre sempre indietro alle emergenze e ritornare ai parenti, trovare delle formule che ci permettano di sopravvivere. Invece noi dobbiamo, visto che il sistema trasfusionale italiano può essere preso a modello a livello mondiale, dobbiamo cercare non solo di mantenere questo tipo di struttura, ma fare di tutto per migliorarlo. Non dobbiamo dimenticare che grazie all'associazionismo e quindi grazie anche alla Frates si è ridotto, si è annientato, si è scongiurato quel mercato nero del sangue. Questo è un altro aspetto che porta a pensare ad atti criminali, ma comunque a persone senza dignità che approfittavano della necessità del cittadino, dell'amico la porta accanto, diciamo. Ecco, il fatto stesso che lei ricorda questi episodi, che oramai sono lontani nel tempo, fa capire come era un problema sentito e come forse ognuno di noi qualche volta, se non direttamente, indirettamente, ha avuto modo di confrontarsi. Questo è stato uno degli aspetti, diciamo così, morali, dal punto di vista morale, dal punto di vista etico, più significativo che l'associazionismo e la mentalità del dono, la vicinanza al dono ha consentito. Quello di dare, diciamo così, dignità ha questo gesto interpretato in modo spontaneo, gratuito, responsabile, fatto in modo tale che uno dona so perché, ma non per chi, e non delle cose donate, fatte, mirate alla persona, eccetera. Questo è stato un elemento di civiltà che, ripeto, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, ma anche prima, si è sviluppato in Italia. e soprattutto nel sud, perché al nord un po' era nata un po' prima tutto questo movimento, anche da noi, insomma, ci siamo affermati come questo è stato un elemento fondamentale dal punto di vista della crescita culturale e civile dell'Italia e delle nostre regioni. E la Puglia, rispetto alle regioni meridionali, si pone in un certo senso all'avanguardia per certi aspetti, lavora bene. Sono un po' di parte perché, pur essendo presidente nazionale, sono pugliese e sono stato presidente regionale per parecchi anni. Quindi, però, ripeto, è un'attività che la Fratres, a livello nazionale, nelle regioni dove siamo presenti, svolge in collaborazione con altri, con le strutture in maniera convinta e sempre effettivamente in crescita, anche nei momenti di difficoltà che abbiamo avuto. E la nostra attività non è solo legata alla donazione del sangue e del plasma, ma collaboriamo molto anche con le altre associazioni. Se lei vede, ci sono i banchetti dell'Aido, dell'Admo, che stanno facendo richieste di tipizzazione durante la raccolta. Questo è un altro aspetto fondamentale, la collaborazione tra le associazioni, del volontariato, del dono. Perché avvicinarsi alle persone, ai cittadini, con una visione unitaria del problema, cioè del vedere il dono come qualche cosa che poi va a vantaggio del malato, di un altro cittadino che ha bisogno, ha un altro impatto, se vedi insieme tutti quanti, anche i riceventi. Una singola associazione acquista quasi un aspetto da sindacato, cioè di difendere, vengo io, parlo io, di una determinata cosa. Invece, se la gente percepisce non solo l'utilità collettiva, come devo dire, complessiva del gesto, che coinvolge più situazioni, più persone, e nello stesso tempo è l'espressione della generosità che si esprime su vari livelli e in diversi modi, perché chi dona il tempo, chi dona la disponibilità, chi dona la possibilità di poter donare il midollo in tempi successivi. Cioè, il cordone mette tutta una serie di aspettative, diciamo così, tutta una serie di possibilità che possono trovare nel tempo soluzioni e questo è il segno di civiltà. La nostra passeggiata è proseguita tra gli stand. Ci troviamo qui con gli amici. Sono qui presente la delegazione del Senegal. Sì, del Senegal. La delegazione del Senegal che sono sempre intervenuti alla fine dell'agricoltura, solo l'anno scorso non hanno partecipato per via della pandelia, ma quest'anno sono tornati. Espongono i loro prodotti e si sono creati, diciamo, delle sinergie anche commerciali con alcune aziende di Senegal. Senatore, buongiorno. Ecco, io la chiamo senatore. Non voglio dire senatrice. Ecco, non è una provocazione. Quindi la chiamerò senatore, va bene? Va bene anche me, ma... Anche me, ma... Non voglio abusare tanto, ecco. Lei è qui a San Michele. Come mai? Perché ci dicono che invece non risiede qui. No, io sono nata a San Michele e il contatto chiaramente con questa città non l'ho mai dimenticato. Dopodiché vivo in Romagna e precisamente a Coriano di Rimini già dal 92, però nei rapporti anche istituzionali con questa amministrazione, con il sindaco, ma con Katia assolutamente ci siamo sempre confrontati. Dopodiché, quando ho potuto, sono venuta alle varie iniziative, però a questa non potevo mancare perché al di là dei rapporti istituzionali che nel tempo sono stati sempre molto corretti, io ho amministrato un comune agricolo e coriano e sia coriano che San Michele sono due comuni agricoli. Non sarei potuta mancare anche in questa nuova veste da senatore, ovviamente. C'è un attaccamento forte alle tradizioni, all'identità e credo che qui loro abbiano avuto innanzitutto lungimiranza perché quattro anni fa quando avete deciso di fare questa cosa col piglio che ha la Katia sicuramente, voglio dire, è riuscita a trascinare non solo tutta la Giunta ma anche tutti gli investitori, tutte le aziende agricole e non solo del territorio. quindi c'è stata lungimiranza. Dopodiché la dimostrazione avere 180 aziende non è indifferente. Il settore dell'agricoltura è centrale, vuol dire identità, vuol dire territorio ma soprattutto vuol dire anche politiche che anche l'amministrazione nel suo livello può intraprendere per dare un risultato. Non è banale che oggi abbiate dato questa struttura bellissima a costo zero perché evidentemente in questo momento in cui la coperta è sempre corta per le aziende è un incentivo ad esserci ma soprattutto un incentivo a continuare e a costruire con tutte le varie attività perché vuol dire fare anche rete ce l'ha detto l'assessore regionale l'unione fa la forza quindi qui è un punto di partenza. Le radici sono importantissime quando si ritorna a casa indipendentemente dal tempo che è trascorso se poco o tanto e poi si assiste a uno spettacolo del genere e a tanta passione perché se la si legge negli occhi è in un periodo di crisi per un politico significa maggiore responsabilità e maggiore impegno o come vive lei questi momenti perché c'è tanta voglia di andare avanti ma poi ci deve essere il supporto della politica che deve mettere a disposizione gli strumenti necessari anche a quei piccoli comuni come San Michele e i tanti cittadini che si spezzano la schiena nei campi per darci poi questo spettacolo questi frutti indispensabili. Io l'ho detto prima cioè l'agricoltura è centrale di tutto il sistema paese ho il vantaggio di aver fatto il sindaco in un territorio dove gli agricoltori non hanno mai mollato anche nel momento più difficile della pandemia e adesso anche la guerra ci si mette nel mezzo a ostacolare diciamo il normale svolgimento poi di quelle attività dove non si timbra il cartellino perché io sono sempre stata dalla parte di chi ha fatto sacrificio ha fatto ha dato veramente tanto alla comunità e paradossalmente in altre aziende si timbra il cartellino quindi ci sono degli orari di lavoro mai in agricoltura abbiamo sentito parlare qualcuno che ha detto ho fatto le otto ore e sono andata a casa io già per quanto riguarda le politiche attive sul mio territorio a fianco di tutte le associazioni ho visto che anche qui c'è un bel discorso fatto intrapreso da tutte le associazioni ho sempre detto non dobbiamo vergognarci di parlare di redditività e di economia perché non ho capito per quale motivo se uno fa l'operaio deve parlare di reddito se uno fa il libero professionista può parlare di reddito l'imprenditore agricolo non può mai parlare per cui sono stata sempre al fianco degli agricoltori con delle politiche attive dopodiché in questo momento il tema centrale è innanzitutto la sopravvivenza delle realtà che già ci sono dopodiché la burocrazia non è possibile avere una burocrazia che è più pesante del risultato economico delle aziende quindi se il governo centrale riuscirà in questo momento a dare dei segnali di apertura ma soprattutto dei segnali concreti nei termini brevissimi come Giorgia Meloni ci ha indicato e come il ministro Lolo Brigida porterà avanti secondo me questo comparto avrà dei risultati tangibili quindi vedere chiaramente la partecipazione ma soprattutto l'entusiasmo per una persona come me che ripeto viene dalla gavetta e adesso rappresenta anche i territori a livello nazionale nella più alta istituzione che è il Senato vuol dire veramente tanta responsabilità io condivido la linea che Giorgia ci ha indicato anche nella prima riunione che abbiamo fatto anche come partito come primo partito della nazione questo è il momento della responsabilità quindi non i festeggiamenti ma l'aiuto concreto e le risposte per cui personalmente ho dato la disponibilità per entrare anche nella prima commissione speciale che analizzerà gli atti quelli del governo precedente perché non dimentichiamoci che c'è stato un governo precedente che ha assolutamente tante responsabilità quindi con senso di responsabilità analizzeremo quei provvedimenti e andremo avanti in una direzione che è quella della velocità Giorgia Meloni è stata la prima presidente del consiglio non donna ma la prima presidente che nel giro di 20 giorni ha fatto un governo quindi attenzione a questo e cerchiamo di dare anche come enti locali la disponibilità verso le istituzioni di un grado maggiore in termini di progetto e San Michele lo sta già facendo grazie di questa sua disponibilità la lasciamo alla sua passeggiata e ai suoi doveri grazie per produrre sono necessarie le attrezzature necessarie la vasta parecchie aziende sia delle macchine agricole che produttori di piccola diciamo utensileria e come in questo caso anche un'azienda di Polignano piccola chiamiamola attrezzatura necessaria per l'agricoltura un'azienda che arriva da Polignano Polignano se permette la disturbiamo di che attrezzature parliamo? parliamo di attrezzature di giardinaggio e anche per l'agricoltura e quelli sono per gli olivi anche sì per la raccolta mi aiuti perché io non sono un esperto i miei genitori i miei avi sì andavano in campagna io purtroppo ho deciso di fare altro non so se è meglio per il prodotto perché non sarei stato capace però li ho visti ogni tanto in funzione sì quelli sono delle abbacchiatori per le olive benissimo e questi altri attrezzi giù che sono? sono delle moto zappe delle moto frise attrezzi da giardinaggio da Polignano questi Polignano siamo noi benissimo buon proseguimento buona fiera grazie altrettanto com'è assessore com'è no deve assaggiare vogliamo sapere se è buono o meno inquadra bene il viso si vede bene il viso si vede bene però non esageriamo ecco veramente è buono sono proprio bravo un attimo un attimo posso un attimo come è preparato abbiamo lo chef come è preparato qui abbiamo preparato il piatto era fatto con crema di fave grano saraceno sbriciolate di zampina zucca e cardoncelli certo c'era un piatto che a noi dà la possibilità di spiegare e di lavorare soprattutto con il territorio di valorizzare il ciclo dei prodotti ortofrutticoli autunnali e quello di realizzare poi un piatto che potesse essere soddisfacente per tutte la tipologia di clientela se vado a togliere la zampina diventa un piatto vegano in questo caso qua diventa anche un piatto per intolleranti in quanto non c'è anche glutine all'interno è un piatto che mi serve poi per esaltare ancora di più l'olio di San Michele e i prodotti che questa comunità ci ha offerti perché nasce da una collaborazione con il comune di San Michele che ci ha offerti questi prodotti e noi abbiamo su questi prodotti studiato una ricetta che potesse andare bene per tutti alla sua destra c'è un signore insomma un po' più chi è questo signore? il ragazzo fa un percorso di sala e vendita quindi sta studiando per diventare in primis un cameriere e poi se magari vuole ampliare le sue conoscenze prendere anche un percorso sul campo dei vini sull'enologia ed è bravo è bravo? sì 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 già il fatto che oggi la scuola è chiusa siamo qui a creare questo servizio vuol dire che ci tiene alla sua professione va valorizzato non solo lui tutti coloro i quali sono qui nel mondo alberghiero nell'inizio alberghiero c'è sempre questa familiarità tra i docenti e i ragazzi perché si crea veramente una sorta di famiglia per questo i ragazzi più meritevoli li portiamo alle varie vostre fiere perché c'è veramente questa voglia di lavorare in simbiosi anche con i docenti quando l'hai prima detto Pasquale? no Nicola ah Nicola Nicola di chi è Nicola? sì ma il signore chi è? no no io sono un suo collega di sale vendita quindi sono come collega lui riguarda la cucina per quanto riguarda la valorizzazione del territorio riguarda anche al vino a tutti i prodotti che comunque offre però non devo dire chiedo scusa assessore che il piatto non c'è più quindi era ottimo era buonissimo voglio mentare che ci sono i ragazzi perché c'erano dei ragazzi che ci inseguivano con delle apparecchiature strane ci giravano attorno attorno chi sono questi ragazzi ragazzi della settore audiovisivo settore audiovisivo dove stanno? stanno riposando voglio che dove è andata a finire? non c'è dove è andata? c'era una signorina che una dove sta? perché scala? e si ma manca l'operatore e qui non c'è nessuno che vuol parlare nessuno dai ragazzi cosa faceva la vostra amica prima che girava attorno attorno ronzava attorno attorno che faceva? faceva le fotografie in pratica fotografia non video anche lo vedremo dopo è l'assessore l'assessore è l'importante e si ovviamente grazie grazie buon proseguimento incontriamo due ragazzi bene che fate da queste parti? allora noi stiamo da ieri stiamo filmando praticamente tutto quello che accade in fira per quale istituto? Rosa Luxemburg di Acquaviva dalle Fonti e diciamo tuo nome? io mi chiamo Vittorio e lei? Asia Asia mi chiamo e niente noi appunto osserviamo cerchiamo di capire realmente come avviene il mondo del cinema quindi registriamo e poi una volta che arriviamo a scuola monteremo tutto e poi uscirà il video finale diciamo ci sono dei commenti anche? o solo immagini? no ci sono ci sono sia diciamo gente che parla e ci spiega ci spiega come si preparano i taralli queste cose qua ma voi perché avete scelto questo indirizzo? per poter puntare all'arte insomma vuoi fare l'attore tu per esempio vuoi fare l'attore? sì sì è guido dalla capigliatura a me piacerebbe tantissimo diventare un attore infatti un calciatore? si guadagna di più come calciatore? vabbè a me piace il mondo del cinema in generale cosa ti affascina il cinema? non lo so cioè proprio stare a con set cioè con un set far parte di un film è la cosa che mi affascina di più quindi vuol dire che da piccolo hai avuto qualche esperienza non so le recite io faccio parte io faccio si vergogno si io faccio parte già di una compagnia teatrale i fili d'argento non so se la conoscete e e da lì diciamo tutto è iniziato da lì poi andando in questa scuola ho capito anche il mondo del cinema quanto è importante ora diciamo mi piace il mondo del cinema ti affascina sì 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 mi affascina tantissimo e infatti la scuola ci ha portato qui appunto per provare una nuova esperienza e per capire veramente come funziona stare dietro e non avanti in fiera anche esperti micologi dell'ASL che fornivano utilissime informazioni sulla commestibilità e tossicità dei funghi noi siamo dell'ispettorato micologico dell'area sud di Bari con sede in Putignano stiamo portando questa mostra qui a San Michele per far formazione alla gente per le intossicazioni per i funghi c'è stato un caso mortale venti giorni fa al Policlinico di Bari proprio per un fungo che oggi abbiamo qui con noi è la manite falloide che si confonde con l'ovulo buono la manita cesarea chi ha di particolare questo fungo? nello stato embrionale sono uguali sembrano sotto forma crescono sotto forma di ovulo poi nella nella crescita si possono differenziare ecco perché è vietata la raccolta e la detenzione di questi funghi sotto forma di ovulo noi oggi noi facciamo formazione proprio per evitare queste intossicazioni o agli avvelenamenti che abbiamo a che fare tutti i giorni con gli ospedali dei distretti qua nel nostro territorio qual è la differenza tra commestibile mediocre e commestibile commestibile ottimo commestibile ottimo è il fungo che si può mangiare sempre dopo adeguata cottura di buon sapore di scarso valore ne abbiamo diversi che sono i mediocre commestibile sono buoni che non danno alcun problema abbiamo c'è il non commestibile molto amaro molto amaro è proprio dalla tossina che contiene questo fungo che ha proprio questo sapore amaro non è commestibile perché è proprio il sentore di amaro questi velenoso velenoso sì è un altro tipo di fungo che dà problemi alla gente che lo mangia specialmente se ci sono bambini donne in gravidanza persone che hanno delle patologie come cardiopatici qui ci dobbiamo chiedere la consulenza gratuita a tutti quelli a tutti i cittadini che ci vogliono far vedere i funghi ma qui avete scritto sospetto che significa che bisogna fare un'indagine questo fungo si assomiglia tanto a un altro genere di fungo quindi noi non gli diamo tutti e due commestibili perché con l'entoloma lividum si va in ospedale la clitocibe nebularis assomiglia tanto e noi la diamo sospetto al fine di evitare che i raccoglitori facciano confusione poi ci sono con altri colleghi ci sono con altri colleghi dell'area sud il dottor Ferrara il dottor Parmizzano e il dottor Chiarella ora stiamo finendo la cernita e la determinazione dei funghi ancora che anche noi dopo tanti anni non siamo ancora in grado di riconoscerli al primo impatto senza l'altro non le assaggiate le assaggiamo pure c'è una particolarità di una specie di funghi che bisogna assaggiarli bisogna assaggiare la lamella tutti quelli a lamella mite e dolce sono buoni lamella piccante da scartare però lo dobbiamo fare solo noi i micologi tutti e tre assaggiate no li facciamo assaggiare solo a uno chi è il di solito è il dottor Parmizzano il dottor Parmizzano che è stato citato in conferenza più volte lui ecco ora abbiamo capito perché hanno fatto riferimento a lei in conferenza quella che c'è stata poco fa sono assai palmizzano perché abbiamo molti palmizzano a Turi da Turi da Turi forza Turi e che c'è in quel piatto questo qua li stiamo determinando e che cos'è quell'arnese ci può dire questo qua è un coltello per un coltello ad hoc giustamente per estirpare il fungo perché il fungo deve essere raccolto interamente perché a volte alla base del gambo troviamo degli elementi che ci riportano alla determinazione del fungo e siamo in grado di dargli un nome e un cognome ma si fanno anche analisi chimiche insomma possono essere anche fatti analisi ma di norma vengono osservati tramite microscopio tramite reagenti con microscopio per andare a verificare le spore perché esiste un atlante di spore dove con certezza noi possiamo determinare il fungo c'è stata qualche occasione in particolare dove c'è stata molta difficoltà nell'individuare la casistica il tipo di fungo se ne scoprono di nuovi ma noi no noi no noi siamo poveri mortali no ma i grandi micologi gli scienziati proprio a volte si riescono a a trovare nuove specie e quindi a determinare un nuovo tipo di fungo e quindi chi ci deve dare il consiglio chi vuol fornire un consiglio ai nostri telespettatori su come comportarsi quando sono per i campi insomma magari vanno a fare una scampagnata e vedono e vedono il funghetto che consiglio possiamo dare il consiglio è chiaramente quello di non consumare funghi di cui non si è certissimi non certi della commestibilità perché basta un lieve errore di valutazione in questo campo e si rischia la vita non so se avete sentito che circa un mese fa c'è stato un caso di avvenenamento mortale da manita falloides raccolta a forma di ovolo consideriamo che tutte le manite da giovani hanno quella forma più o meno quindi confondere un ovolo buono con un ovolo venenoso mortale è facilissimo e appunto è stato dimostrato quindi basta rivolgersi a un centro di controllo micologico un micologo effettivamente che abbia la titolarità perché ci stanno molta gente che si improvvisa in questo campo i vari sapientoni dei vari paesi quindi è bene evitare quindi andare non consumare funghi che non conoscete non consumate soprattutto funghi del genere amanita perché l'astrudità di questo genere che all'interno della sua specie c'ha la amanita cesarea che noi abbiamo con la amanita musca falloides che è agli estremi opposti quindi fungo migliore e fungo peggiori in assoluto nella stessa famiglia ecco noi invece andiamo nel negozio fruttivendolo abbiamo la certezza allora nel negozio non ci sono problemi prima perché io sono consumatore come siamo certi in fruttivendolo i funghi che trovate il 90% sono funghi coltivati i funghi coltivati sono normativizzati dalla legge sugli ortaggi quindi problemi zero i funghi spontanei venduti a fruttivendolo dovrebbero essere a monte certificati quindi ci dovrebbe essere un certificato di un micologo che accerta la commestibilità di quei funghi un certificato di commestibilità ma quelli hanno un sapore diverso ritengo sono migliori sono più saporiti non tutti riescono a capire le sottigliezze quindi ad esempio negli pleurotus airingi il famoso cardoncello non tutti sono in grado di capire il gusto leggermente differente tra le due specie se spontanee o coltivate in alcuni casi non esiste nemmeno quindi non è che sia un fattore molto determinante diciamo molte volte durante il nostro lavoro abbiamo visto dei tentativi di camuffare i funghi coltivati con quelli spontanei soprattutto nel cardoncello quindi in genere vengono imbrattati un po' di terriccio essi più assimilabili a quelli spontanei di fatto invece sono quelli coltivati però l'utente non è in grado certo di verificarlo grazie di questo contributo che sicuramente sarà apprezzato dai nostri amici che seguono la nostra programmazione bisogna avvisare la popolazione che la determinazione del fungo da parte dei micologi è gratuita e loro non si arrabbiano se le persone vengono a far determinare i funghi perché i funghi noi anche noi che siamo dei micologi abbiamo bisogno abbiamo necessità di osservarli in continuazione perché come diceva un nostro insegnante i funghi sono come le donne se li trascuri ti mollano possono mollare anche noi ho capito ma intanto dove si devono rivolgere quindi presso le sedi dell'ispettorato micologico che ci sono sul sito della ASL con un banner già dal dall'inizio dell'inserimento dei dati della ASL viene fuori il banner con ispettorato micologico con tutte le sedi nostre noi ripetiamo diamo la consulenza gratuita a tutti i cittadini che li vogliono far controllare che fanno mettono in busta e vengono direttamente là o devono prenotarsi come funziona intanto non devono mettere in busta i funghi perché il fungo in busta non va mai messo io sono bocciato oggi a funghi non posso andare questo è chiaro si capisce che dei funghi non li capiscono perché lei non ha fatto il corso per il riconoscimento dei funghi quindi una delle principali nozioni è proprio quello che i funghi non vanno mai messi in contenitori di plastica ma in cesti in modo tale che le spore nel bosco vengono rilasciate e c'è la possibilità di riprodursi quindi si rivolgono a voi e quindi noi previo appuntamento perché sul sito della ASL abbiamo anche rilasciato i nostri cellulari per le diverse sedi siamo sempre disponibili per il riconoscimento dei funghi grazie ed è totalmente gratuito grazie grazie tante nel corso della manifestazione c'è chi ha voluto raccontarci i propri sogni qual è l'attore o l'attrice che più ti piace è un esempio Victoria dei Angelis perché che ha di particolare è una ragazza veramente che come si dice grinta si smette tanto attraverso lo schermo si si vede tantissimo ti dispiace chiamare la tua amica no no ora la chiamo asia lui vuole fare l'attore e tu io non lo so precisamente ancora cosa voglio fare però punto su quelle cose in cerca e tu cosa riconsiglieresti perché potrebbe essere potrebbe essere insomma una concorrente non è meglio che non fa un'attrice no allora perché meno ce ne siete su sette meglio è perché non è che potete essere in tanti tu non diventare la modella potrebbe essere la modella potrebbe fare la modella secondo me avrebbe pure carriera perché quali sono le sue caratteristiche tra di noi le sue non le tue è perché comunque è una bella ragazza cioè nel senso pure lei cioè stai tranquillo non ti emozionare no io non cioè lei è sempre stata così diciamo noi siamo amici da undici anni quindi tutti e due di acqua viva sì sì dalle elementari che ci conosciamo dalle elementari ecco l'attore o l'attrice che più affascina Asia no mi piace fare la modella e basta l'attrice proprio no l'attrice è la modella o il modello il modello il modello la modella facciamo così la modella che più ti piace qual è non ne conosco non ne conosco cioè non lo so Influenza conosce tu conosci in francese no non mi dire quella però non mi dire quella però dì 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 Gaia Bianchi no non è quella ok perché chiedo chi no no lo so io l'operatore a me è un vediamo a me piace Michele Morrone Michele Morrone avete osservato questi splendidi cavalli sono fantastici stiamo da ieri qua solo vicino a loro stiamo perché cosa vi attrae in particolare di questi animali la grandezza nell'animale proprio è attraente come animale però sono allo stesso tempo grandi ma eleganti ah ieri l'ho cavalcato quale come si chiama come si chiama l'ultimo era questo no con la sella immagino si 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 con la sella eri già stato a cavallo una volta questa è stata la seconda volta e che cosa si prova a salire in sella è bellissimo è da una parte un po' perché comunque si muove quindi una volta un po' eh sì ma poi e Asia sì ho tanta paura sopra stare sopra sì sono stata però sì ma c'è un sacco di paura però poi ti abitui allora buon divertimento grazie mille buona fiera grazie anche a voi ciao ciao ciao